Da Washington, dove ieri ha incontrato Angela Merkel, Barack Obama avverte la Russia. Se la diplomazia dovesse fallire, forniremo armi all'Ucraina. La cancelliera tedesca prosegue nelle trattative. Domani sarà a Minsk, dove è in programma un vertice a quattro con Putin, Poroshenko e Hollande. Nuova strage nel canale di Sicilia. 29 migranti morti per il freddo erano su un barcone, soccorso dalle motovedette della Guardia Costiera. E si temono altre vittime. Con Mare Nostrum si sarebbero salvati, non abbiamo i mezzi adeguati, denunciano i soccorritori. La paura per l'uscita della Grecia dall'Euro affonda i mercati. Atene impicchiata a meno 4,75%, trascina giù tutte le principali piazze europee. Milano perde quasi il 2%. Lo spread fra titoli ellenici e quelli tedeschi tocca i mille punti. Il premier Tsipras prova a rassicurare i mercati, ma Londra prepara un piano anticrisi in caso di cosiddetta Grexit. Non è finita qui, l'inchiesta è solo all'inizio. Hervé Falsiani, l'ex dipendente della banca britannica HSBC, che trafugò la lista dei grandi evasori fiscali in Svizzera, promette nuove e importanti rivelazioni. Oltre 7 mila gli italiani che avevano un conto segreto a Ginevra, mentre la procura di Torino indaga su centinaia di nuovi nomi. Buongiorno a tutti dal telegiornale della SET. In apertura la crisi ucraina, perché siamo alla vigilia di un incontro decisivo, che molti anzi definiscono l'ultima spiaggia, quello di domani a Minsk. Ci saranno ovviamente Vladimir Putin, Poroshenko, ma anche Angela Merkel e François Hollande. È appunto il vertice dell'ultima spiaggia, ma i segnali non sono buoni, perché Mosca ha già detto che non accetterà nessun ultimatum, mentre Obama parla già di inviare armi letali al governo di Kiev. Insomma, siamo ripiombati in piena guerra fredda. Gli americani non parteciperanno mercoledì al vertice di Minsk sull'Ucraina, ma rimarranno a stretto contatto con gli alleati europei. I ruoli sono chiari, a Washington toccano le minacce e fare la voce grossa alla Francia, ma soprattutto alla Germania, mediare e trovare il compromesso. Lo si è capito fin dalle prime parole della conferenza stampa congiunta ieri tra Barack Obama ed Angela Merkel. La Russia ha detto che Obama ha violato tutti gli impegni presi fino ad ora. Per questo l'America si riserva, se le trattative non andassero a buon fine, di inviare armi letali a Kiev per difendersi. Mosca ha immediatamente fatto sapere che un simile gesto potrebbe chiudere per sempre il dialogo. L'opzione non piace neanche alla Germania. Non ci possono essere soluzioni militari a questo conflitto, ha ribadito ieri la cancelliera tedesca, in una solo apparente diversità di vedute con il presidente americano. Il gioco dei ruoli tra Unione Europea e Stati Uniti è chiave per spingere Putin al tavolo delle trattative mercoledì a Minsk e per fare in modo che il presidente russo non solo negozi con la volontà di trovare un accordo capace di evitare una guerra alle porte dell'Europa, ma anche di rispettarlo. Abbiamo chiarito, ha detto Obama, che se Mosca continuerà in questo modo sarà ancora più isolata. Aumenteremo le sanzioni, non si possono ridisegnare le frontiere dell'Europa con il fucile puntato. Anche l'Unione ha approvato nuove sanzioni che rimarranno congelate proprio in attesa del vertice di Minsk. Sul terreno, nell'est dell'Ucraina, si continua a morire e nelle ultime ore sono state uccise almeno 19 persone, in maggioranza civili. E Kiev torna ad accusare i russi, che hanno inviato i ribelli nuovi aiuti, di aver fatto passare il confine ad almeno 1.500 soldati per combattere al fianco delle milizie delle repubbliche secessioniste del Donbass. E noi ora torniamo in Italia per raccontarvi purtroppo l'ennesima tragedia nel canale di Sicilia, perché una trentina di persone sono morte assiderate, sono morte di freddo nel tentativo di raggiungere Lampedusa. E si temono anche molti dispersi. Vediamo. La procura di Agrigento ha aperto una inchiesta e la nuova tragedia in mare di migranti a largo di Lampedusa riapre le polemiche politiche. Protesta il sindaco dell'isola, Giussi Nicolini. Siamo tornati a prima di Mare Nostrum, come se quei 366 morti nell'aufragio dell'ottobre 2013 fossero dimenticati, così come le parole del Papa. Polemiche sull'utilità e l'efficacia della missione europea Triton. Un orrore. Conseguenze del dopo Mare Nostrum, osserva il presidente della Camera Boldrini. Altro sangue sulle coscienze sporche dei falsi buoni, dice il leader leghista Salvini, che ancora una volta attacca il ministro dell'interno Alfano. Salvini accusato a sua volta di sciacallaggio dall'NCD Schifani. Questa volta i migranti sono morti per il freddo, assiderati, mentre i soccorritori uomini della Guardia Costiera cercavano di evitare l'ennesima strage nel canale di Sicilia. Almeno in 30 hanno perso la vita nella traversata tra la Libia e le coste italiane, fatta in pieno inverno a bordo di un barcone alla deriva. Altre decine sono i feriti, alcuni di loro in condizioni molto gravi. Ancora è imprecisato il numero dei dispersi, perché in quel tratto di mare a circa 100 miglia da Lampedusa c'erano forse altri barconi con altri profughi di cui finora non sono state trovate tracce. L'allarme era stato lanciato da un telefono satellitare. Una notte da incubo nel canale di Sicilia, con i mezzi di soccorso due motovedette costrette ad operare con il mare in tempesta il vento gelido, onde alte fino a 9 metri. I migranti non avevano indumenti pesanti né coperte, nessun giubbotto di salvataggio. Sette di loro erano già morti prima dell'arrivo dei soccorsi. Le altre vittime hanno ceduto all'ipotermia durante le lunghe ore del trasferimento a Lampedusa. Siamo alla pagina politica, perché la rottura del patto del Nazareno va alla prova, per così dire, dell'Aula di Montecitorio, dove ci saranno le votazioni per la riforma costituzionale. Ma intanto i partiti già pensano in ottica primaverile, cioè per quanto riguarda le elezioni regionali. E ieri ci sono stati una serie di incontri importanti. Berlusconi ha visto Salvini e sembra proprio che quest'asse possa riemergere, possa risollevarsi questa antica alleanza. Ma Renzi risponde perché ha incontrato e rafforza a sua volta l'asse con Alfano. E soprattutto ha detto se Berlusconi viene salvinizzato, cioè se allea con Salvini, porta più voti a noi. Nell'area di governo, in vista della ripresa del lavoro parlamentare sulle riforme, si riparte oggi a Montecitorio, suono l'allarme nuovo centrodestra. Infatti il voto sul Quirinale, che ha sconquassato Forza Italia, crea problemi anche nel partito dei centristi. Per cercare di rilanciare l'accordo, ieri faccia a faccia tra Renzi e il ministro dell'Interno, che, saltata l'intesa con i forzisti sul nuovo capo dello Stato, sembra ancora più vicino al Partito Democratico. Ma c'è anche un'altra ragione che spingerebbe l'NCD verso il centro-sinistra. La determinazione di Salvini, che per rifare un accordo con Forza Italia e ricostruire un centrodestra potenzialmente alternativo a Renzi, pone l'out-out a Berlusconi, mai con gli alfaniani. Per il momento, almeno a sentire quagliariello, il partito, in vista delle regionali, intende tenersi le mani libere. Una forza autonoma che parte dalle proprie candidature, aperta alle alleanze. Anche l'alleanza con il PD, vedo i Liguria, è possibile. E del resto, se Forza Italia sceglie la derivale penista di Salvini, ce ne faremo una ragione. Ma non tutto fila liscio. Infatti, resta una sacca di dissidenti interni, come Nunzia de Girolamo, che annuncia non sono d'accordo a un nuovo schiacciamento su Renzi. Un tentennamento, però, che sembra non preoccupare il PD. Infatti, il ministro Boschi ripete, ogni giorno, ce la faremo, c'è condivisione, ci sono i numeri già con il solo Partito Democratico. Una linea di sicurezza che non è scalfita dalla seconda lettura al Senato, che ci sarà tra tre mesi dopo le regionali, è dunque abbastanza lontana per immaginare che le tensioni nei centristi calino. E la maggioranza Demi, infatti, è talmente certa del risultato che non intende cedere nemmeno alle pressioni della propria minoranza, che ritorna a chiedere cambiamenti nella legge elettorale, per far saltare i capilista bloccati. Parallelamente, dunque, è in pieno sviluppo il dialogo Salvini-Berlusconi, che due giorni fa hanno cenato insieme ad Arcore, come a rinverdire un vecchio rito, quello dell'ex cavaliere con Bossi. Sono soddisfatto, spiega il leader del Carroccio, che dopo mesi di opposizione solitaria, ora Berlusconi si avvicini alle nostre posizioni contro il governo. Ma Salvini ancora non si fida completamente dell'ex alleato forzista. Vediamo se Forza Italia all'opposizione dura più di una settimana. Già, ma è ancora più importante quel che sta avvenendo in Grecia, perché ovviamente ha riflessi su tutta l'Europa, dunque su tutti noi. Innanzitutto, sembra che qualsiasi protagonista di questa vicenda smentisca una possibile uscita dall'euro di Atene. Ma c'è però in realtà chi fa dei piani anticrisi che prevedono già una cosiddetta Grexit, cioè un'uscita appunto di Atene dalla moneta unica. E anche i mercati non sembrano ottimisti. L'avete sentito dai titoli le perdite gravi di ieri, soprattutto di Atene, ma anche delle altre piazze europee. Non sembrano ottimisti, soprattutto in vista della giornata di domani. È una giornata cruciale proprio per questa crisi. L'eventuale uscita della Grecia dall'eurozona allarma il Regno Unito. Al punto da spingere il Premier Cameron a convocare una riunione con membri della Banca d'Inghilterra per analizzare le possibili conseguenze. Principale piazza finanziaria europea e seconda nel mondo, Londra non può certo farsi cogliere impreparata. È necessario prevenire l'incertezza dei mercati aggiornando e rafforzando i piani per agginare il rischio contagio dell'eventuale uscita da Eurolandia. Ci si prepara al peggio, anche perché le distanze tra Atene e i partner europei sulla trattativa per la rinegoziazione del debito sembrano allargarsi. A Vienna, dove incontra il cancelliere austriaco Feynman, il Premier Lenico Tsipras spiega che il programma di Atene prevede un prestito ponte dal 28 febbraio al 1 giugno. Così avremo lo spazio di manovra fiscale e il tempo per iniziare ad applicare il programma e ripristinare i servizi pubblici, spiega. Poi tenta di tranquillizzare i mercati. Il negoziato sul debito si concluderà con un compromesso vantaggioso per tutti. Sarà, ma intanto, anche per il mancato accordo sulla fine del conflitto in Ucraina, la borsa di Atene crolla, trascinando con sé tutte le altre piazze finanziarie. Atene, lo ricordiamo, deve rimborsare alla Banca Centrale Europea quasi 7 miliardi in due tranche, il 20 luglio e il 20 agosto. Dopodomani, vertice straordinario dell'Eurogruppa Bruxelles. Il ministro delle Finanze Varoufakis illustrerà le proposte del nuovo governo, oltre al prestito ponte, la rimodulazione delle scadenze debitorie, magari con tassi di interesse indicizzati all'andamento del prodotto interno lordo. Siamo allo scandalo svizzero che ha coinvolto una banca in realtà inglese, ma la sua filiale svizzera, la filiale della HSBCO, se meglio credete, HSBC. Ha coinvolto anche oltre 100 mila clienti correntisti. Tra loro, lo sapete, ormai ci sono più di 7 mila italiani sui quali la procura di Torino indaga già da tempo, avendo già scoperto ben 741 milioni di euro di fatto sottratti al fisco, sottratti a tutti noi. In molti casi, questi nostri connazionali si sono già avvalsi del cosiddetto scudo fiscale. Intanto, il protagonista di questa vicenda, Hervé Falsiani, ha parlato in un'intervista e ha detto che presto ci saranno nuove banche coinvolte, nuove liste. Vediamo. Siamo solo all'inizio. L'inchiesta sulla maxievasione è destinata ad allargarsi. Nell'elenco, già diffuso da molte testate, in Italia l'esclusiva del settimanale L'Espresso, compaiono rampolli di famiglie reali e boss del traffico di cocaina, ambasciatori e sospetti terroristi, manager di grandi aziende e atleti, artisti, attori. A tutti questi clienti, la banca britannica HSBC ha offerto la possibilità di nascondere i patrimoni alle rispettive autorità per un tesoro sottratto al fisco corrispondente a 180 miliardi di euro. La rivelazione, grazie all'accesso ai dati sottratti da Hervé Falciani, esperto informatico ed ex dipendente dell'Istituto Bancario. Per anni questi file sono stati noti solo alla giustizia, adesso sono finiti sui giornali. E l'inchiesta continua. In Italia la Procura di Torino sta ancora esaminando tutti i nuovi file arrivati nel 2014 dalla Spagna che contengono anche multinominativi italiani estratti da un altro elenco di 121 mila clienti della banca inglese. Centinaia e centinaia di italiani, VIP e non che hanno sottratto redditi e tassazione e che vanno ad aggiungersi ai 100 mila già diffusi dal Consorzio Internazionale di giornalisti investigativi di Washington. Falciani, intervistato dal Sole 24 Ore, ha dichiarato che il suo obiettivo non era quello di divulgare i nomi ma piuttosto di far capire che esiste un sistema industriale che all'interno delle grandi banche private opera per aggirare le leggi. L'Ocse, sostiene ancora Falciani, ha fatto sapere che in futuro non sarà più possibile realizzare tutto quello che il caso HSBC ha portato alla luce ma è una falsità perché i sistemi per aggirare le regole ci sono già. Gli interessi in gioco sono enormi e se non saranno i cittadini ad occuparsene non se ne occuperà nessuno. Secondo Falciani bisogna ristabilire un controllo democratico e questo non può avvenire con il Presidente della Commissione Europea, Juncker, che per tanti anni è stato alla guida di un paradiso fiscale come il Lussemburgo. Parliamo ora di un altro processo di cui per la verità si è parlato moltissimo negli ultimi mesi, negli ultimi anni. I giudici di Milano hanno infatti depositato le motivazioni della sentenza del processo Rubi Bis nelle quali motivazioni di fatto confermano il sistema prostitutivo ad Arcore. Prove compatte e univoche sulle prestazioni sessuali che le ragazze di Arcore offrivano a Berlusconi in cambio di denaro o altra utilità. Lo scrivono i giudici della Corte d'Appello nelle motivazioni appena depositate del processo Rubi Bis che ha condannato Lele Mora a sei anni e un mese Emilio Fede a quattro anni e dieci mesi e Nicol Minetti a tre anni. Un sistema prostitutivo scrivono i magistrati dove Karima e il Marug avrebbe preso soldi da Berlusconi in cambio del sesso e del suo silenzio del processo. Motivazioni che lo ricordiamo riguardano un processo che non vede imputato Silvio Berlusconi ma che fanno discutere perché le continue elargizioni di denaro alle ragazze di cui parlano i giudici milanesi potrebbero avere un peso su un'altra inchiesta il Rubiter che invece vede Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari con alcuni dei suoi fedelissimi. Gli avvocati Ghedini e Longo il capo della segreteria di Forza Italia Maria Rosaria Rossi il tesoriere del partito Bruno Archi l'eurodeputata Ligia Ronzulli insieme ad altri personaggi della corte di Villa San Martino e naturalmente altre ragazze le cosiddette olgettine Rubi compresa. L'ipotesi dei magistrati è che Berlusconi avrebbe comprato il loro silenzio con bonifici da 2500 euro a ciascuna di loro. Per la ragazza marocchina si parla di cifre molto più alte. Insomma le motivazioni del processo d'appello Rubi Bis rimandano anche al caso Rubi che nonostante la sentenza d'appello che ha assolto Berlusconi è un caso tutt'altro che chiuso. Ancora cronaca perché sono stati identificati e arrestati sette rapinatori che nel maggio del 2013 forse lo ricorderete assaltarono una gioielleria la Frank Müller in via della Spiga a Milano nel pieno centro di Milano. Si tratta dei cittadini romeni tra i 20 e i 25 anni erano entrati a volto coperto con bastoni e mazze con cui avevano distrutto le teche espositive con orologi di valore e gioielli ferendo un cliente un addetto alla sorveglianza si coprirono la fuga lanciando bottiglie incendiare nelle vie del quadrilatero della moda secondo la polizia e i carabinieri sono le stesse persone che rapinarono la gioielleria qualche mese prima a febbraio. E siamo ora allo sport c'è ieri è stata un po' la giornata una giornata importante e difficile per il cittadino la nazionale Antonio Conte perché intanto la procura di Cremona ha chiuso l'indagine sul calcio scommesse confermando per Conte l'accusa di frode sportiva in più c'era la conferenza stampa con i vertici della Federcalcio con i quali Conte non va molto d'accordo assieme anche a quelli della Lega Conte che si conferma però allenatore della nazionale. è stato il lunedì più lungo di Antonio Conte scongiurato il divorzio con la nazionale dopo il vertice con il presidente Tavecchio il CT ha incassato la doccia fredda arrivata dalla procura di Cremona il PM Martino ha chiuso l'inchiesta sul calcio scommesse dopo 4 anni di indagini con la conferma per l'ex allenatore del Siena dell'accusa di frode sportiva 130 gli indagati preludio del rinvio a giudizio per altrettanti ex calciatori giocatori e dirigenti tra questi spunta anche l'allenatore dell'Atalanta Colantuono associazione a delinquere contestata signori Mauri e Doni chiesta l'archiviazione per Bonucci e Criscito il processo nel prossimo autunno nessun commento da parte di Conte all'uscita della sede della FIGC nel faccia a faccia con il presidente Tavecchio necessario dopo i malumori seguiti al no agli steggio della nazionale la schiarita Tavecchio lo definisce il nostro condottiero e vorrebbe rinnovargli il contratto Conte chiude il tormentone degli ultimi giorni ho iniziato un percorso contento di averlo fatto con la nazionale percorso che a norma contrattuale prevede l'arrivo agli europei e di far possibilmente bene agli europei detto questo mi auguro che da oggi in avanti si metta una parola fine al discorso arriverà o non arriverà alla fine del contratto perché ci arriverò che piaccia o no a qualcuno la vita del CT sarà più semplice secondo Tavecchio quando verranno riformati i campionati con la serie A di 18 squadre fino ad allora Conte dovrà fare di necessità virtù ieri c'è stato il posticipo di campionato ebbene il Genoa ha sconfitto la Lazio 1-0 sotto lo sguardo di Antonio Conte il Genoa ha portato a otto incontri la sua striscia vincente contro la Lazio primo tempo all'insegna del nervosismo con cinque ammoniti a cominciare meglio era stata la Lazio che ha reclamato per un presunto falo di De Maio su Close una punizione di Biglia ha costretto Perin ad un difficile intervento a fil di palo il portiere rosso-blu si ripeteva sull'insidioso destro di Candreva salvando di nuovo la sua porta la spinta bianco-celeste si eseriva lì il Genoa riusciva a sfruttare i pochi spazi a disposizione fino alla ripartenza che alla mezz'ora lanciava Niang a tu per tu con Marchetti ruvido il contatto fra portiere e attaccante Gervasoni non esitava nell'estrare il cartellino rosso e decretare il rigore per il Genoa sulla traiettoria di Perotti niente da fare per il portiere Laziale Beriscia entrato in campo pochi secondi prima al posto di Marchetti Lazio in 10 è in difficoltà ad impostare una reazione dopo la rete dello 0-1 in apertura di ripresa lo spagnolo Iago Falchè sprecava due preziose palle gol nel giro di un solo minuto il Genoa che poteva in più di un'occasione chiudere la partita ha dovuto soffrire sino all'ultimo brivido per il palo colpito dal capitano bianco-celeste Mauri autore nel finale di una spettacolare rovesciata pallone alto di poco il match si chiudeva con il grande estero di Cusca deviato da Beriscia la terza di ritorno che ha confermato il grande equilibrio alle spalle di Juventus Roma e Napoli con la Fiorentina al quarto posto insieme alla Sampdoria si completerà mercoledì pomeriggio con il recupero di Parma-Chievo Noi ci fermiamo qui fra poco Paolo Sottocorona con le sue previsioni meteo poi Omnibus prossima edizione del telegiornale alle 13.30 vi ricordo di seguire anche tutte le notizie e gli aggiornamenti sul nostro sito tgla7.it e sul nostro account di Twitter grazie a tutti per l'attenzione arrivederci Grazie a tutti